Dopo la pausa ad agosto, a settembre si è tornati ad accelerare sui lavori al cavalcaferrovia De Sabata, ponte di collegamento vecchio mezzosecolo che continua nella sua manutenzione straordinaria. Da ieri la struttura ha giunto un altro step avviando la demolizione dei vecchi parapetti con una caduta di calcinacci su via 24 Maggio che ha portato a chiudere il traffico veicolare da via Bixio verso il cavalcavia creando anche qualche disagio alla circolazione. Ad inizio ottobre dovrebbe invece concludersi il maxilavoro al sottopasso dei Cappuccini dove Marche Multiservizi sta ultimando l'intervento alla rete del gas. Sottopasso che è chiuso dallo scorso mese di maggio per il maxintervento di demolizione e ricostruzione del sottopassaggio in versione più allargata e con meno pendenza. A novembre arriva invece lo step più delicato per il cavalcaferrovia con i lavori che insisteranno sulla zona centrale sovrastante i binari. Siamo in contatto, stiamo dialogando con Ferrovia dello Stato perché siamo con loro in attesa di avere il periodo preciso nel quale poi sarà possibile andare a fare i lavori nella parte centrale per intenderci quella proprio che passa sopra i binari. Sono lavori che andranno fatti in sicurezza, andranno condivisi tutte le procedure i momenti e i percorsi con loro e con loro c'è una buona sinergia quindi penso che nel mese di novembre si possa poi andare a fare quel tipo di intervento nella parte centrale del ponte. Grazie a tutti.